capitolo 11 il ritorno del martedì che giorno è oggi buio silenzio sonno la mamma entrò in camera anna si volse nel letto senza aprire gli occhi su anna sveglia e ora anna socchiuse gli occhi li stropicciò dov'era come un'andata di mare sulla spiaggia che arriva in attesa in onde fossati e le piste di sabbia così i ricordi di canto parlante tornano in lei quella c'era schifosa nella gola deglutì fece un respiro non c'era più senti un fortissimo desiderio di un buon latte caldo e dolce ormai era sveglia la mamma stava armeggiando con la finestra mamma che giorno è oggi chiese anna con voce impastata come non ti ricordi rispose la mamma hai le prove del saggio è martedì martedì sei sicura ma certo e ieri che giorno era anna fai la scemotta e o stai dormendo ancora no dai mamma davvero dimmelo che giorno era ma se oggi è martedì ieri che giorno era lunedì domandò anna prudente incerta la mamma le rovescio via le coperte ridendo dai non prendermi in giro ma che ti prende stamattina hai fatto sogni strani su alzati che fra dieci minuti arriva zeno a far colazione anna si alzò corse in cucina guardò la radio sveglia i led verdi dicevano martedì 10 novembre corse in bagno con una rima scema che le veniva a risatine capriole la pipì la pipì la pipì del martedì la pipì del martedì 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 santissima rima scema era proprio contenta quando uscì dal bagno zeno l'aspettava seduta al tavolo della colazione i due amici si guardarono in silenzio riassunto del rewind bastò quello sguardo anna non lo sapeva ancora bene se ciò che era accaduto fosse un sogno ma se lo era non era un sogno solitario zeno sapeva tutto se era un sogno l'aveva fatto anche lui ne era certa fecero colazione parlando di cose qualunque con voci normali ma lasciandosi di tanto in tanto ma lanciandosi di ma lanciandosi di tanto in tanto occhiate d'intesa sopra i bordi delle tazze solo quando furono soli in cammino verso la scuola cominciarono a parlarne dapprima imbarazzati ma ecco tu ti ricordi qualcosa sì e tu io sì direi tutto per esempio ti ricordi il ragnetto di dimicroniente sì e tu il gigante olulugica grande sì e tu sì e tu andarono avanti a turno in una specie di riassunto rewind della loro avventura con gli occhi sempre più accesi e il professore e le vespie sugavocali e le mucche uaie e la palude il temporale il custode paperino con la pipa in bocca e le scale degli anni e le sale dei mesi e le panze dei giorni e la reggia di cera e quella schifosa strega mangia lingua e li si guardarono muti rabbrividirono e quella specie di morte vivente dentro la cera tacquero per un po con gli occhi rannuvolati di paura ricordando quei bruttissimi momenti poi sospirarono fortuna che era venuta alla fine la filastrocca giusta già disse zeno guardando seria l'amica fortuna che ci sei tu fortuna che c'è nonna nenea perché noi lì Anna si interruppe occhi e bocca spalancati che scema esclamò contrariata non ho pensato di parlarle prima di uscire per capire se sa tutto anche lei ma ormai erano arrivati davanti a scuola si guardarono fissi fissi un'ultima volta entrarono si separarono ciascuno nella sua classe le filastrocche a scuola quel giorno sarà stato certo un caso le maestre delle loro classi avevano invitato una signora esperta per parlare di poesie filastrocche questa signora aveva portato un po di libri di poeti e scrittori per bambini e li leggeva dicendo le rime per bene col bel ritmo dei versi che batteva e una voce gioiosa di gioco i bambini si divertirono per un poco poi si stufarono e fecero gli occhi vuoti pensando ad altro solo Anna e Zeno ciascuno nella sua classe quel giorno stettero attenti fino alla fine perché fra sé a ogni nuova filastrocca i due amici pensavano così questa avrebbe funzionato a canto parlante questa no questa forse questa sì si ricordarono perfettamente delle due conte che non le erano servite quella di Anna lunedì chiusi in chiusino martedì bucolovino aveva ragione Zeno era brutta con tutti quei quellino ino da piccolino e quella di Zeno lunedì si svegliò martedì sbadì io aveva ragione Anna era scema solo un elenco di cose da fare svegliandosi forse era proprio così le filastrocche fanno magie sì ma non tutte forse solo quelle belle fatte bene fanno bene se sono fatte bene Anna si chiese fra sé ma non ebbe il coraggio di chiederlo a quella signora se i poeti che avevano scritto quelle belle fossero stati forse anche loro a canto parlante Zeno invece che era più sbruffone quando venne nella sua classe le chiese se conosceva quella che dice era lullullu era di 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 quella signora rispose che sì la conosceva e che una volta aveva sentito un poeta e scrittore per bambini dire così se non c'è almeno un bambino che almeno una volta al giorno almeno in un posto del mondo dice quella filastrocca ed è martedì l'indomani non viene il mercoledì Zeno mutu lì la guardò strano e non fece più lo spiritoso ciò che avevano imparato a canto parlante tornando a casa Anna e Zeno parlarono un po' di quella strana mattina di scuola venuta proprio dopo la loro avventura e di filastrocche ragionarono di ciò che avevano imparato a canto parlante e che perfino il professore cioè uno che insegnava aveva imparato che le filastrocche non sono per nulla composizioni prive di senso come lui pensava prima e aveva scritto anche nel suo vocabolauro al contrario hanno tanto di quel senso nascosto dentro da far superare paludi scacciare temporali sconfiggere custodi assassini con la pipa in bocca e far tornare nel mondo i martedì non tutte però disse Zeno no soltanto quelle belle disse Anna e c'è anche un altro tizio disse Zeno che conosce il segreto della filastrocca dei giorni sa che serve per far venire il giorno dopo chi chi chiese Anna subito attenta non lo so disse lui scrollando le spalle un poeta conosceva quella signora ma non mi ha detto chi poi si annoiarono di rime filastrocche e non ne parlarono più anche perché passavano davanti al giardinetto e si accorsero che all'andata perduti nei riassunti rewind della loro avventura non l'avevano neanche guardato con un po di batticuore entrarono di corsa svoltarono l'angolo dell'edicola ed eccolo in vista le altalene immobili con la diffusione di pinta in viso i due amici si avvicinarono ai sedili non dondolano disse Anna forse perché non c'è vento disse Zeno neanche ieri c'era vento è vero però dondolavano sole sì la porta socchiusa allora Zeno senza troppo sperarci dette una spinta a un sedile e subito i loro occhi si sgranarono il sedile oscillando avanti e indietro era sparito e poco dopo era riapparso per dondolare indietro e poi di nuovo avanti e usch sparito Anna e Zeno si guardarono con due giganteschi sorrisi la porta di canto parlante era ancora aperta potevano tornarci qualche volta l'idea di rivedere i loro amici di di microniente e l'ulugica grande li entusiasmò e poi adesso che non c'erano più streghe speriamo che quella reggia di roccia e di cera interruppe Zeno sia crollata in un test a lei alle sue vesti e ai suoi porti draghi seppellendoli per sempre adesso che non c'erano più streghe riprese Anna che mangiano lingue e uccidono parole chissà che altre avventure potranno incontrare con i loro due amici ragnetto gigantio e chissà quanti altri i due felici come due giovani delfini corsero via gridando e saltando così non videro un vecchietto serio serio con una borsa e due grandi orecchie a sventola che poco dopo si avvicinava alle altalene dava una spinta osservava trasaliva sorrideva e si allontanava anche lui saltellando poi si fermava apriva la borsa toglieva fuori un mazzo di fogli stampati fitti di liste di parole e cominciava a leggerle dalla cima abbadessa abecedario a bonacciare a bottinare a brigliare a bruciaticcio vi troverò mie care parole perdute non abbiate paura resistete vi troverò tutte e riposto il plico in borsa riprendeva saltellare via felice affrettandosi verso chissà quali preparativi nenio nena quel pomeriggio dalla vecchia nonna nenia i due bambini non cavava non cavarono granché le chiedevano richiedevano pazienti se sapesse di un certo regno cantoparlante se conoscesse di di micro niente e l'ulogiga grande un ragnetto un gigantio se sapesse del martedì che era sparito e poi tornato grazie a loro ma anche grazie a lei se sapesse della strega mangialingua se era davvero scomparsa e come fare a non farla ritornare la vecchietta rispondeva sorridendo facendo sì sì con la testa e dicendo ogni domanda di anna nenio nena andira nai nora nara mi ronnai non si pote mai più cavarle altro però rideva e rideva e annuiva nenio nena disse anna l'amico arrendendosi rassegnata e risero insieme no 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 no